Il libro si intitola Le Venezie di Marco Polo, storia di un mercante e delle sue città, edito dal Mulino nel 2023, ovviamente è l'occasione settecentenario della morte di Marco Polo, però con una prospettiva completamente ribaltata, cioè non tanto la storia di Marco Polo e quindi il viaggio fantastico di Marco Polo che ha scoperto l'estremo oriente della Cina, ma l'ambiente di partenza, gli ambienti di partenza, quindi Venezia, la Venezia diffusa, le altre Venezie, il Mediterraneo, il mare, la civiltà di mercanti che ha permesso questa epopea poliana, questa epopea, questo viaggio di scoperta di Marco Polo, ma studiando appunto gli ambienti, la cultura e la civiltà di partenza, quindi appunto questo mondo di mercanti in grandissima espansione tra 200 e 300 che stava, come dire, in maniera direi quasi prepotente guardando all'estremo oriente per espandere i propri commerci, che è alla base di questa epopea poliana, cioè che voglio dire, come dire, se abbiamo un Marco esploratore, un Marco che arriva in Cina, lo si deve a questa, come dire, propulsione espansiva di Venezia tra metà 200 e metà 300.